Ignazio Agosto, un buon giorno ma anche un buon giorno per te? Sì, ho fatto un errore e non lo scopo. Dopo prendo anche un penalti per il starto di due secondi, ma non sono felice per le penalti, perché non lo scopo. Dopo prendo la seconda rata finito 5, perché dal starto, il secondo giro con Flavio, ha fatto un po' errore, perché non lo scopo. Dopo ero 10, ero più veloce, ma in questa condizione è difficile arrivare al primo giro. Quindi sono felice perché ero fast oggi, ma per il risultato non sono molto felice. In realtà non stai così felice. No, non sono così felice. Hai anche domani per competire e per vincere? Sì, credo che domani sarò competitivo, perché il materiale e tutto è bene per me. E domani è un altro giorno, quindi spero di fare un buon giorno.